buongiorno a tutti buongiorno salve buongiorno battitori e cani sono a vostra completa disposizione speriamo che questa battuta possa essere una bellissima esperienza auguro a tutti quanti una splendida giornata oh Hoop, hoop! Hoop! Hoop, hoop! Hoop, hoop, hoop! Hoop, hoop! Ai... mailbox! Hoop, hoop, hoop! si è infilato laggiù è andato niente ciao il cinghiale è laggiù ok grazie Weidmann's Aile Weidmann's Dunk bel colpo si non male weidmann's Aile weidmann's Aile